Salve ragazzi, sono Mario Rubino e mi occupo di nutrizione. In questo video andiamo a vedere quali nutrienti e alimenti possono essere utili per la salute del nostro apparato oculare. La vista possiamo definirla come il risultato della conversione della luce ricevuta nei nostri occhi in segnali elettrici decodificati dal cervello. Minchia quante ne so! Lo stress ossidativo è il fattore più implicato nello sviluppo di malattie a carico degli occhi. Quindi il consumo di quantità adeguate di nutrienti con proprietà antiossidanti è fondamentale anche per la salute degli occhi. La visione nitida dipende dalla capacità degli occhi di mettere a fuoco e convertire velocemente la luce in segnali elettrici, che poi viaggiano lungo il nervo ottico fino al cervello, per essere elaborati in immagini. La luce inizialmente arriva alla cornea, nella parte anteriore dell'occhio, attraverso un'apertura chiamata pupilla, la cui dimensione è controllata dall'iride, che è la parte colorata dell'occhio. La luce passa quindi attraverso il cristallino, che concentra la luce sulla retina, una struttura nella parte posteriore dell'occhio, contenente delle cellule fotorecettrici che trasformano la luce in segnali elettrici che vengono captati dal nervo ottico. Le principali patologie oculari includono la degenerazione maculare legata all'età, la macula è la parte della retina responsabile della visione chiara, il glaucoma è una malattia che colpisce il nervo ottico dovuto all'aumento della pressione interna dell'occhio o alla riduzione dell'apporto di sangue al nervo ottico, la cataratta, cioè un annebbiamento del cristallino, la retinopatia diabetica, cioè danno ai vasi sanguigni della retina a causa del diabete. Ma in che modo la nostra dieta può influenzare gli occhi e la vista? Un adeguato apporto di vitamine, sostanze antiossidanti e acidi grassi essenziali, in particolare vitamina A, carotenoidi, antocianine, vitamina E, vitamina C e omega 3, sono di base fondamentali per la salute degli occhi, secondo le evidenze fisiologiche e scientifiche. Soprattutto la vitamina A gioca un ruolo cruciale perché la sua carenza porta alla cecità notturna e alla fine anche alla cecità permanente se non viene trattata. L'assunzione regolare di alimenti ricchi di questi nutrienti può migliorare e proteggere la vista, prevenire la miopia e la cataratta e ridurre il rischio di problemi agli occhi dal 20 al 30%. I modelli dietetici ricchi di frutta e verdura, soprattutto verdura a foglia verde scura, frutta e verdura di colore giallo, viola e arancione, pesce grasso, noci e legumi sono generalmente associate a un rischio ridotto di malattie degli occhi. La vitamina A è materia di primaria importanza per le sostanze fotosensibili nelle cellule visive, che proteggono gli occhi e mantengono una buona visione. L'alimento con più vitamina A è il fegato degli animali, come fegato di manzo, di maiale, di pollo, d'anatra, il tuorlo d'uovo, latte intero, soprattutto quello crudo, e formaggi stagionali. Anche carote, zucca e ortaggi e frutti principalmente di colore arancione contengono beta carotene, che viene convertito per via enzimatica in vitamina A nel nostro lume intestinale. La formazione di vitamina A a partire dal beta carotene è inversamente proporzionale al nostro stato nutrizionale della vitamina che abbiamo nell'organismo. Se ne abbiamo a sufficienza sarà minore la trasformazione del beta carotene in vitamina A. Quindi quando la quantità di vitamina è sufficiente il beta carotene viene depositato e ci coloriamo di arancione. Le migliori fonti di vitamina A comunque sono quelle animali, perché sono prontamente biodisponibili e noi non abbiamo tutti una capacità enzimatica intestinale così efficiente. Soprattutto chi soffre di varie problematiche gastroenteriche, al giorno d'oggi diffusissime. Quando si assume beta carotene e tutti gli altri carotenoidi da ortaggi e frutta è bene abbinare sempre una fonte di grassi per aumentarne la biodisponibilità, perché sono sostanze lipofile, cioè che si legono ai grassi e vengono meglio trasportati nell'intestino per essere digerite. Un integratore che ritengo molto valido per il contenuto in vitamina A è l'olio di fegato di merluzzo, ed in più è un'ottima fonte di vitamina E, vitamina D e acidi grassi essenziali omega 3, quindi tutti nutrienti utili per la salute degli occhi. Gli acidi grassi omega 3 sono un altro nutriente fondamentale per la salute oculare. I componenti principali di questi acidi grassi sono il DHA ed EPA. Oltre ad essere essenziali per ridurre lo stress ossidativo, sono estremamente importanti per la funzione della retina. Le membrane della retina contengono un'alta concentrazione di DHA. Diversi studi hanno dimostrato che senza un'adeguata assunzione di acidi grassi omega 3, la retina può degenerare gradualmente ed in particolare la loro carenza predispone all'insorgenza del glaucoma. Gli acidi grassi omega 3 si trovano principalmente nei pesci grassi come sardine, acciughe, salmone, aringa, tonno, sgombro, anche in fonti vegetali come noce, avocado, semi di lino, di chia, ma in forma di ala, acido alfa linoleico, che ha una conversione molto bassa in omega 3, circa del 5%. Per chi fa una dieta prettamente vegetale consiglio di utilizzare fonti di omega 3 provenienti da alghe come spirulina, clorella e alga nori. L'integrazione di acidi grassi omega 3 è vivamente consigliata perché è abbastanza difficile ottenere una buona quota solo dagli alimenti. E spesso la nostra dieta, senza saperlo, è molto sbilanciata sugli omega 6, che ad alte quantità sono pro-infiammatori. Per di più nei pesci di allevamento il contenuto di omega 3 è sensibilmente ridotto e sempre più sbilanciato verso gli omega 6, così come la cottura del pesce porta ad ossidare parte di questi grassi essenziali. Scegliete pesci selvaggi, pesce azzurro, fresco e di piccole dimensioni e utilizzate colture delicate al vapore o marinato. Per l'integrazione consiglio di scegliere i prodotti certificati IFOS e tenerli sempre in un barattolo scuro in frigo, lontano da luci e fonti di calore. La luteina e la zeaxantina sono i principali carotenoidi contenuti nell'area centrale della retina e nel cristallino. Per proteggersi dalla luce intensa l'occhio utilizza vari sistemi protettivi, come l'ammiccamento delle palpebre, le modifiche della pupilla, il cristallino come filtro e i pigmenti oculari della retina. La luteina e la zeaxantina sono proprio questi pigmenti con la funzione di proteggere le cellule nervose e la retina dai rischi di un'eccessiva esposizione ai raggi UV. La luteina la troviamo in verdure verdi o arancioni, come spinaci, cicoria, broccoli, cavoli, zucche, prezzemolo e piselli. La zeaxantina è invece un pigmento di colore giallo che troviamo principalmente in alimenti come il mais, il peperone giallo, le albicocche, il mango, le arance e il tuorlo d'uovo. Anche in questo caso l'integrazione potrebbe essere utile soprattutto in età più avanzata o per chi presenta già problematiche oculari o calo della vista o per chi lavora molto al computer. Eh già. Per vitamina E si intende l'intera famiglia dei tocoferoli, composti liposolubili tipicamente vegetali. Li troviamo presenti nella parte cosiddetta vitale dei semi, ovvero nel germe o embrione, nei relativi oli di estrazione a freddo e ben conservati, nella frutta e negli ortaggi freschi. Le funzioni della vitamina E sono soprattutto di natura antiossidante ed è considerata un ottimo alleato nella prevenzione della degenerazione senile della retina e sembra che la sua carenza possa contribuire al distacco della retina. I cibi ricchi di vitamina E sono le olive, l'olio d'oliva, le mandorle, noci, avocado, germe di grano e il suo olio, semi di girasole e il suo olio, o meglio se spremuto a freddo, nocciole e arachidi. Della vitamina C ne ho parlato spesso in altri video per le sue numerose caratteristiche e funzionalità, ma per il tema di questo video è molto importante da considerare per le sue proprietà antinfiammatorie e antiossidanti, come protettore degli occhi dai radicali liberi ma anche dai raggi UV quando ne siamo esposti per lunghi periodi, soprattutto per chi fa lavoro sport che lo mette faccia a faccia continuamente con il sole e i suoi riflessi. Tipo i surfisti. La vitamina C si trova principalmente in ortaggi e frutta come kiwi, ananas, arancia, limoni, peperoni, cavoli, pomodori e così via. La sua integrazione risulta molto efficace perché secondo il mio parere non ne assimiliamo abbastanza dai cibi e la vita contemporanea ci porta a livelli di infiammazione e stress molto alti. E poi costa nulla. La polvere di acido ascorbico certificato la ritengo migliore di alcuni integratori in capsule che possono avere altri eccipienti inutili o addirittura dannosi. Io ne uso circa 1-2 grammi al giorno. Le antocianine sono pigmenti naturali che appartengono alla classe dei flavonoidi e che conferiscono ai frutti ortaggi il colore blu-violaceo. Le antocianine o antociani sono in grado di migliorare la visione notturna e il ripristino della prontezza visiva in seguito all'esposizione a luci intense. Gli antociani più comuni e studiati nei cibi sono i glicosidi della cianidina. Queste molecole agiscono sugli enzimi retinici aumentando la velocità di rigenerazione dei pigmenti che si separano sotto l'effetto della luce. Grazie a questo processo viene ridotto il tempo di adattamento dell'occhio all'oscurità. Studi clinici hanno dimostrato l'efficacia delle antocianine, specialmente del mirtillo nero, sul riflesso fotomotore della pupilla, inducendo una risposta più efficace del riflesso. Inoltre altri studi evidenziano che gli antociani del ribes nero hanno contribuito a ridurre la perdita della vista e a migliorare il flusso sanguigno agli occhi in pazienti con glaucoma. Queste sostanze le troviamo con concentrazione molto alta, soprattutto nei mirtilli neri e nei ribes, e in tutti i frutti di bosco, bacche, colore blu-violaceo. In meno quantità a parità di peso, anche nell'uva nera, nell'uva sultanina, nelle ciliegie, nei cavoli viola, nelle cipolle rosse di tropea, nelle carote viola, che poi sono quelle originali, nelle patate viola, radicchio, olive nere e fagioli neri. Ok, finiamo per capire quale figure professionali sono coinvolte nel trattamento degli occhi e della vista. Un oftalmologo o oculista è un medico specializzato nella cura degli occhi e della vista. Possono diagnosticare e curare tutte le malattie degli occhi, eseguire interventi chirurgici e prescrivere e montare occhiali e lenti a contatto. Gli optometristi non sono medici, ma possono eseguire esami della vista, prescrivere e dispensare lenti correttive, rilevare anomalie oculari, suggerire attività di rieducazione visiva, ma non prescrivere terapie farmacologiche. Gli ottici invece sono tecnici formati per progettare, verificare e montare occhiali e lenti a contatto. L'ottico realizza e vende occhiali correttivi su prescrizione del medico oculista, oppure su prescrizione sua, ma solo per i difetti visivi quali l'ipermetropia, l'astigmatismo, la miopia e la presbiopia. In conclusione, direi che anche per la nostra vista è di base fondamentale migliorare il nostro stile di vita in generale, riducendo il più possibile lo stress, limitare le luci blu degli schermi e settarli se possibile con il sistema di filtro. Fare attività fisica quotidianamente è rilassare la vista guardando spesso in lontananza dopo che siamo stati molto tempo concentrati su distanze ravvicinate. La dieta è molto efficace quando utilizziamo nel quotidiano prodotti di qualità come gran parte degli alimenti che vi ho menzionato, inserendoli spesso e facendoli ruotare giorno dopo giorno. Utile anche considerare l'integrazione delle vitamine e omega 3 di cui vi ho parlato qualora ne sentisse la necessità per la condizione in cui siete. O fare attenzionare al vostro medico specialista se soffrite di una patologia oculare per averne un parere e per essere anche d'aiuto alla terapia che state eseguendo. Per tutto il resto c'è il laser. Bene figliozzi, il video termina qui. Condividete i miei video per alimentare questo mio progetto di divulgazione pseudoscientifica. Se avete domande commentate e scrivete pure le vostre esperienze visionarie. Seguitemi anche su Instagram e Facebook. In descrizione trovate tutti i miei contatti. Grazie ragazzi, ci vediamo, spero meglio, nel prossimo video. Un abbraccio e hasta la vista!